Allora, mi racconti della fornace, del vecchio convento? Lì ci dicevano che c'erano i frati, che c'erano i frati, che c'era un convento, che c'erano tanti frati, c'era uno che era il capo, avevano tutte le casottine di mattoni, tutti sassi, non mattoni, sassi, tutti andavano a prendere da mangiare e poi alla sera ci mettevano lì, dormivano lì, ma venivano anche su la gente da fuori, i pellegrini. Sì, sì, per capire che andavano magari in giro, non so io, alla stopparina, parla pure in dialetto. Ecco, andavano in mia stopparina, poi magari alla sera venivano lì a dormire, a mangiare lì, al custio di freddo, custio di freddo, custio di freddo, custio di freddo, e andavano poi a Bobbio, ceci, Bobbio andavano in giro. Sì, ecco, ceci e Bobbio, ma ce ne erano tanti bene, come lo dicono, come dicono i vecchi, e a te chi lo diceva, mio padre e mamma. Ecco, sì, e poi, non so, una volta... E poi sono scappati tutti. E hanno detto che si è messa nella via, era sempre bello, no? Se mi sa più che, mi dico in dialetto. In dialetto, in dialetto. Ecco, le neve non hanno mai visto in queste zone, no? Allora se mi sa la neve, allora uno, il capo ha detto, via via di qua, via di qua, andiamo, andiamo via, che viene sul mondo, via tutti, via tutti. Sono scappati tutti, non so dove sono andati, sono andati magari a Bobbio, o chi lo sa, gli ha lasciato a Bobbio, non so dove sono andati, sono scappati tutti. Avevano paura, paura della neve, perché non hanno mai visto la neve, guarda che robbi, guarda, guarda, chissà quanti, e ma chissà quanti mila anni sono. Sì, può darsi, sono tanti. Sono scappati, sono scappati e hanno lasciato lì tutte le belle casottine, i sassi, tutto, che ci sono ancora adesso. C'è ancora qualcosa, sì, c'è ancora qualcosa, e i sassi poi li hanno usati per le cascine lì dei Roncassi. Eh, ecco, sì, perché noi andiamo su con le mucche, no? Andavamo al Pasco loro là, tutto con le mucche, e lì si vedeva tutto, tutti i mattoni, proprio insieme, insieme, là dove erano, non ci andavano. Lì, lo chiamavano il convento, lo chiamavano il convento di Valle Scura. Sì, ecco, ecco, proprio, perché lì è Valle Scura. Valle Scura, resta lì, sì, ecco, Valle Scura, sì, era bello, era bello. Però io l'ho visto, l'ho visto perché era ancora giovane. Le raccontano i vecchi. E comunque è stata una cosa. E forse c'è qualcosa che riguarda la scapparina. Eh, può dare, può dare, può dare, perché è illuminante la scapparena. Scapparena. Adesso scapparena, scapparena, vanno tutti, dove vai? Alla scapparena, scapparena. Tutti dicono che lì, sì. Ti ringrazio. Eh, quello che so, quello che so, magari, magari mi sono dimenticato se avevo saputo di più. No, è già abbastanza, è già abbastanza. Comunque un po'. Allora adesso poi ha registrato tutto. Qua ha registrato tutto. Oh, che bello, che bello. Ti sa, e cosa, gli fa vedere, cosa dicono? La facciamo vedere su internet, ti vede tutto il mondo. Oh, mamma, mamma. Tutto il mondo. Ma guarda, guarda, guarda. Eh, ma lo sa il paese? Sì, sì, il paese è Massinigo. Massinigo lo sai, lo sa. Però, sai, siete sotto al convento di Valle Scura. E quindi, meglio di voi, non lo sa nessuno. Eh, no, no. Lì, lì, c'è tutta la Valle Scura. Certo, eh. Valle Scura, poi c'è il comune, tutto, Santa Margareta, tutto. Lo sa, eh. Sì, sì, so tutto. So tutto. C'è più di me. Adesso ti portano in televisione. Oh, mamma, mamma, mamma. E ti vedono. C'è più di me.